di panza e dei giornalisti venduti come lui quindi o tu mi lasci dire queste tre cose o non si esce vivi di qui chiama la polizia, chiama la polizia, chiama il 130 ma chi crede che Giuliano Ferrara si fa dire una cosa di questa regione da uno stronzetto di cui sa vita, morte e minasso ma che siamo facci, ma tu sei male, pensi di prendere me e mettermi alla cogna di quello stronzo no, ti ho detto che tu devi ascoltare le tre cose che io ho da dire o le ascolti e mi dai il diritto democratico e ci dici di rispondere a quelli infame oppure niente, devi ascoltare un attimo bene